Ciao a Pettis.it, tuo Simon, Love Simon in originale di Greg Berlanti, è un film che ha fatto molto parlare di sé negli Stati Uniti d'America, è stato anche molto appoggiato da delle star che hanno addirittura affittato dei cinema per prolungare la sua distribuzione in sala, è un film che è diventato anche un po' un manifesto. Beh è molto bello, è molto bello, mi è piaciuto molto e il protagonista Nick Robinson che ho avuto la fortuna di incrociare brevemente a Giffoni nel 2017 è una bomba, già mi piaceva da morire, perché? Perché lui ha la pazienza negli occhi, è sicuramente un attore molto interessante, ragazzino anche lui, che era molto bravo in Noi siamo tutto, una commedia di amore giovane con malattia, che era molto bravo in The Kings of Summer di Jordan Vogt-Roberts, il regista di School Island, Kong School Island e questo è un film School Island, nel senso che c'è l'isola della scuola, il liceo dove Nick Robinson va ogni giorno, lui è Simon, va ogni giorno con i suoi amici, è tutto un idillio, è un'America senza più tensioni razziali per esempio, però c'è forse ancora qualcosa che ha a che fare con la nostra sessualità e soprattutto la sessualità di Simon, ma se Simon fosse gay, già è divertentissimo vedere Nick Robinson che ha, devo dire, la pazienza negli occhi e anche, è un attore molto gentile, è un attore molto, che ama molto, diciamo che chiede molto il nostro affetto e lo ottiene, è incredibilmente capace di avere questo, anche se l'ho visto poi in altri ruoli anche più duri, quindi è veramente un grande attore, ragazzi stiamo parlando di uno che ha appena compiuto 23 anni. Allora, lui è Simon e in questo film c'è la parte di Robinson iper gentile, anche un po' cerbiatto, un po' spaventato, innocente, colpito dalla propria sessualità e... oh, sognava Daniel Radcliffe, peraltro appunto, gusti sessuali Simon, vabbè, col collo... no, sognava Daniel Radcliffe, è lì che si è accorto che cominciava ad avere qualche tendenza a omo e è finissimo perché avrà a che fare con qualcuno del suo stesso orientamento sessuale in questo film che gli dirà, a me mi piace Jon Snow e quindi sa che è un po' diversa da Daniel Radcliffe. Comunque, al di là dei gusti sessuali di Simon, che sono un po' quello che sono, in realtà lui in questo film ha paura, ha paura di dirlo a questi amici a cui si può dire tutto. Sono questi giovani americani che si strafanno di cosa? De droga? No, non si drogano più! Si strafanno di ice coffee e vedono, conoscono tutto della cultura pop, hanno una passione, Simon ha una grande passione per anche la musica vintage, ascolta i kinks, su V1000 e ha dei genitori della mia generazione che sono molto attenti a non essere impositivi e anche aggressivi come presenza genitoriale. Gli attori sono bravissimi, il gruppo di amici è molto simpatico. C'è anche Logan Miller nella parte di uno rompicoglioni a cui Simon si legherà. Logan Miller è fantastico in questo film, alla scena clou di tutto il film, al suo Showtime, che lo aiuterà molto in carriera. Insomma, che cosa succederà a Simon? Che cosa succederà? Sarà tutto così leggero? Sarà tutto così uscito? Non da una commedia di John Hughes, che ovviamente il film di Berlanti cita, ma sembra, diciamo, è una generazione che ha visto le commedie di John Hughes e che sembra averle trasformate nella loro vita reale. È tutto così progressista, è tutto così tranquillo come sembra, è tutto così ironico, è tutto così maturo e se fosse tutto così forse non ci sarebbe il film. E allora in realtà questo segreto che Simon ha legato alla propria sessualità e che condivide con una persona misteriosa, con la volta che si scrive, chissà potrebbe appunto essere poi il centro della seconda parte del film, come svilupparlo. Molto carini gli amici, molto carini, mi sono piaciuti tantissimo, soprattutto Logan Miller, amico nemico, un po' come Lando con Han Solo, Logan Miller fa Martin, questo fanatico della recitazione che ha tanti problemi, e che avrà una storia d'amicizia molto interessante con Abby, interpretata da Alexandra Sheep, che è una bomba nel film e faceva Storm in X-Men Apocalypse di Bryan Singer, quindi era già una supereroina ed è molto divertente perché è una festa mascherata, Nick Robinson si è festa da John Lennon e l'amico ignorantone calciatore lo confonde per Gesù, e l'amico calciatore si presenta con la maglietta da calciatore e loro dicono, ma è una festa mascherata, ma sei te? No, 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 Cristiano Ronaldo! E fa vero che ha appunto rivinto di nuovo la Coppa dei Campioni, quindi è molto attuale il film di Greg Berlanti. Greg è un mattacchione che ha lavorato molto dentro la televisione con Dawson Creek, che è una mitica serie televisiva di fine anni 90, ideata da Kevin Williamson, che raccontava proprio che già era un primo omaggio, forse il primo vero, serio omaggio al cinema di John Hughes degli anni 80, dell'adolescenza. Greg Berlanti viene da lì, si è specializzato, ha fatto anche dei lunghi che non sono andati un granché, è diventato un ottimo, un famosissimo producer, executive producer, showrunner televisivo. Questo è il suo film che è andato meglio, questo è il suo film probabilmente anche più bello. Lui era, pensate, lo sceneggiatore, il produttore di Lanterna Verde, che come sapete, se avete visto i credits finali di Deadpool 2, ha sortito un effetto nella vita di Deadpool e nella vita di Ryan Reynolds. Ok. Allora, tuo Simon, Greg Berlanti, è, diciamo, la prova che Nick Robinson sta diventando l'attore della sua generazione più sensibile, più delicato. Questo film è impossibile non voler entrare nel film a abbracciare Simon e dire, Cioè, penso io a te, mo, ti aiuto io, perché Nick Robinson è dolcissimo nel film. È sempre un po' spaventato da cosa? Dalla sua timidezza e da questa sua sessualità, che non è particolarmente condivisa con tutte le persone del film. E il film è proprio questo. Il film racconta dei nostri rapporti nei gruppi di amici, di come possono cambiare gli amorazzi e poi ovviamente ci sono le figure degli insegnanti nella high school e poi ci sono degli eventi importanti come la partita di football e lì che Logan Miller ha la sua scena proprio incredibile, va bene, ha la scena che cambia la sua carriera. È fantastica. Ok, benissimo, tuo Simon, Jennifer Garner e fa un po' il Michael Stalberg della situazione di Chiamami Col Tuo Nome e non aggiungo altro, ed è la mamma di Simon, c'è la birra Pong, ovviamente il gioco con la ballinata Ming Pong, la birra che devi bere che si embriagano tutti, tipico degli americani, c'è l'epic fail, ci stanno i supereroi a questa festa mascherata appunto, la bellissima Alexandra Sheep di cui sentiremo molto parlare ma che già è emersa molto perché sta in un X-Men Apocalypse, si traveste da Wonder Woman ed è, devo dire, veramente nudevole la nostra Alexandra. Ok, tuo Simon, Greg Berlanti, lui è sposato con un uomo, lui è un super gay, super fico come Neil Patrick Harris, e allora sono loro, questi, ma anche degli etero, si sono messi insieme e hanno detto ok, noi rappresentiamo una comunità che ha acquistato sempre più diritti nel corso del tempo e questo è il nostro film, questo è un film importante per gli adolescenti americani, sapete che c'è, sono d'accordo con loro. Ciao, Betteist! Grazie a tutti!